La DR in linea generale è un accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada, come tutti voi conoscete, che ha compiuto 60 anni. Il 30 settembre di quest'anno ha compiuto 60 anni, è nata a Ginevra il 30 settembre del 57 e da allora viene aggiornato. Qual è la motivazione di questo accordo che è nato tra pochi stati, inizialmente e poi sono stati aggiunti e si sono aggiunti altri stati? Tant'è vero che viene detto un accordo europeo ma altresì un accordo internazionale, un accordo europeo in quanto è fatto obbligo a tutti gli stati dell'Unione Europea di aderire a questo accordo e di rispettarlo, mentre è definito internazionale in quanto gli stati che non fanno parte dell'Unione Europea possono aderire a questo accordo. È un accordo tecnico ed essendo un accordo tecnico molti stati che non fanno parte dell'Unione Europea hanno aderito. L'elenco completo si trova proprio anche per un eventuale controllo su strada di veicoli stranieri, l'elenco completo si trova proprio nelle prime pagine dell'accordo, in modo tale che riusciamo a capire se uno Stato ha aderito o meno a questo accordo. Qual è la prassi di emanazione dell'ADR? Ormai da un po' di anni a questa parte, indicativamente dal 1995, l'ADR viene rinnovato con cadenza biennale. Quindi noi siamo in questa fase di ADR 2017. Il segretario generale nell'ONU il 10 ottobre del 2016 ha trasmesso gli emendamenti degli allegati A e B, l'ha trasmesso all'Unione Europea e questi sono entrati in vigore facoltativamente dal 1 gennaio del 2017, obbligatoriamente dal 1 luglio del 2017. In campo europeo quindi tutto questo accordo dell'ADR 2017 è stato recepito con la direttiva 2016-2309 del 16 dicembre 2016. In Italia è stato recepito con il decreto ministeriale 12 maggio 2017, quindi siamo in piena attuazione. Come vi dicevo prima, l'ADR con cadenza biennale negli anni dispari e piace sempre ricordarvi che entra in vigore l'ADR tutte le volte che voi organi di polizia siete chiamati a mettere in pista le nuove quote, le nuove sanzioni. Ogni anno dispari entrano in vigore l'aggiornamento delle sanzioni del codice della strada, analogamente entrano in vigore le nuove disposizioni dell'ADR. Ormai è da un po' di anni che questa cadenza, mentre prima non era una cadenza biennale, dal 1995 questa cadenza è biennale e vedete che nel 2017 abbiamo adeguato per la quarta volta consecutiva il testo base dell'ADR, che è la direttiva 2008-68, che è stata recepita in Italia col decreto legislativo 35. Questo è un cenno soltanto iniziale per farvi capire anche successivamente di cosa stiamo parlando. Andiamo a vedere i documenti dal punto di vista pratico che prevede l'ADR durante un trasporto di merci pericolose. Sono molteplici, sono tanti. Oggi io vado a analizzare qualcuno e vedremo di renderlo più pratico possibile. Dal documento di trasporto alle istruzioni scritte o schede di sicurezza, al CFP o volgarmente detto patentino ADR, ha il baratto rosa o DDT-306 o Agramen, che da qualche giorno cambierà nome e diventerà DDT-307. Poi lo vedremo. Quali sono i documenti di bordo obbligatori stabiliti l'ADR? Al punto 812 dell'ADR viene stabilito proprio quali sono i documenti obbligatori che devono trovarsi a bordo di un veicolo quando si trasportano merci pericolose. E' essenzialmente il documento di trasporto, le istruzioni scritte o schede di sicurezza, un documento di identificazione del conducente, più che del conducente, del membro dell'equipaggio. Poi diremo qui cos'è un membro dell'equipaggio. E poi nel caso in cui ricorre dovremmo avere altra documentazione che è il certificato di approvazione ADR e questo quando ricorre dice l'ADR perché non tutti i veicoli hanno la necessità di questo documento. Il certificato di formazione del conducente, anche questo quando ricorre perché per alcuni trasporti, trasporti ad esempio a di sotto dei limiti di esenzioni previsti al punto 1136 dell'ADR, questo documento non è previsto, e poi una copia, se prescritta, dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente. Questo teoricamente è quello che dice l'ADR. Andiamo a tradurlo dal punto di vista pratico su strada. Allora, ho diviso i documenti in tre famiglie. I documenti che riguardano il conducente è la patente di guida CQC, barra CQC, il CFP che sarebbe il patentino ADR e un documento di identificazione. Per quanto riguarda la merce, la scheda di sicurezza è il documento di trasporto. Per quanto riguarda il veicolo, carta di circolazione, certificato di approvazione, certificato ispezione cisterna. Questa suddivisione ci deve servire da checklist durante il controllo su strada, in modo tale che, partendo dai documenti della merce, poi andiamo a capire se il veicolo deve avere determinate documentazioni a bordo e se il conducente deve essere in possesso o almeno di alcune abilitazioni. Iniziamo subito col conducente, in modo particolare parliamo del patentino ADR, del CFP. Il punto 821 della DR prevede che durante il trasporto di merci pericolose il conducente deve essere in possesso di un attestato che dimostri di aver partecipato a un corso di formazione e aver superato un esame. Quali sono le norme che regono questo rilascio e i corsi di formazione del patentino ADR? Essenzialmente sono le regole che ha previsto in tutti questi anni la DR, ma che poi sono state tradotte in Italia con dei decreti ministeriali. Siamo partiti col 571 del 92, abbiamo poi fatto una variazione il 15 maggio del 97 con l'ultimo del 6 ottobre del 2006. Questi sono i decreti attuativi in Italia delle norme ADR. A parte il recepimento che avviene normalmente biennale, poi questi decreti hanno dato ulteriori disposizioni perché vi ricordo che l'ADR lascia la facoltà ai singoli paesi aderenti per il territorio del proprio Stato di dare anche ulteriori norme restrittive rispetto a quelle che vengono previste dall'ADR. Ad esempio, in un caso pratico, l'Italia ha una serie di norme restrittive sul trasporto di esplosivi che negli altri Stati aderenti all'accordo non hanno. Quali tipi di abilitazione esistono? Quali tipi di patentini esistono e vengono rilasciati al momento attuale? Esiste il patentino cosiddetto B. Queste sigle sono sigle che sono state individuate per riconoscere che non esistono sull'accordo, ma sono sigle che sono state assegnate dal nostro CED e che vengono riportate anche nelle maschere di accesso che avete voi come forze di polizia e che quindi vi andate a trovare sulle maschere di accesso per vedere il tipo di abilitazione che un conducente è in possesso. B vuol dire che è l'abilitazione base, ovvero mi abilita alla guida di veicoli per il trasporto di merci pericolose, in colli e alla rinfusa, ad eccezione di esplosivi e radiattivi. Uno può conseguire soltanto l'abilitazione base e con quella potrà trasportare solo quelle merci con quelle modalità che vi ho appena detto oppure richiedere le specializzazioni. Le specializzazioni possono essere di tre tipi. La specializzazione per il trasporto in cisterna, identificata con la lettera A. Il trasporto esplosivi, identificato con il numero 1, perché gli esplosivi appartengono alla classe 1 dell'ADR. o 7 per la classe 7 dei radiattivi. Il conducente, una volta che ha stabilito di effettuare il corso base, può indifferentemente conseguire una di queste specializzazioni. Non c'è la necessità né di conseguirle tutte, né contemporaneamente di averle tutte. E in funzione delle abilitazioni che il conducente avrà conseguito, quindi avremo una determinata abilitazione a guidare un determinata tipologia di veicoli. Quindi nella prima riga abbiamo un conducente che ha frequentato e ha superato l'esame solo del corso base, allora sarà abilitato soltanto al trasporto di merci pericolose in colli o alla rinfusa, sempre escluso classe 1 e 7. L'ultima riga della tabella, ad esempio, abbiamo il caso di base, più classe 1, più classe 7, quindi sarà un conducente che potrà trasportare merci pericolose in colli o alla rinfusa, compreso classe 1 e classe 7, ma non potrà trasportare, ad esempio, merci pericolose in cisterna. Quindi a seconda della tipologia di corse, a seconda della tipologia di conseguimento dell'esame, avremo questa differenza. Differenza che sarà resa evidente sul certificato, oltre a essere resa evidente sulle maschere di accesso al nostro sistema, al nostro CED, sono anche evidenti sul patentino che rilasciamo. Ma oltre a queste abilitazioni generali, a cui attualmente sono vigenti in Italia, l'ADR già nel 2011, ma poi l'ha ribadito nel 2017, perché molti stati non si sono ancora adeguati, compreso l'Italia, ha previsto abilitazioni limitate, diciamo. Perché? Perché molti conducenti che trasportano merci pericolose, non è detto che trasportano merci pericolose diverse, ma possono trasportare sempre la stessa merce pericolosa. Faccio riferimento, ad esempio, al cisternista, che trasporta soltanto gasolio, perché deve studiarsi i radiattivi, i corrosivi e tutte le altre. Va bene come cultura generale, ma anche perché deve sostenere i relativi esami. Allora l'ADR stabilisce che è possibile effettuare corsi e relativi esami solo ed esclusivamente per o una determinata abilitazione limitata, cioè limitata a determinate classi, o addirittura limitata a determinate merci pericolose. Tant'è vero che se voi avete fatto caso sui nuovi patentini, sul reto dei nuovi patentini che dopo andremo a vedere, c'è proprio la possibilità da parte dell'ufficio provinciale di limitare quel patentino o a quella classe o addirittura a quel numero uno rappresentativo di quella merce pericolosa. Questa situazione però al momento attuale non è ancora prevista, saranno previsti anche questi corsi limitati, saranno previste queste abilitazioni limitate, ma in Italia al momento attuale questo tipo di abilitazione non è ancora stata resa operativa. È logico che l'ADR stabilisce che se tu fai un corso limitato non potrai fare delle specializzazioni complete. Ad esempio dice che se tu fai un corso limitato per la base perché intendi trasportare soltanto determinate merci, non potrai fare il corso degli esplosivi perché voglio che fai l'abilitazione completa, perché gli esplosivi è una specializzazione del base. Il nostro patentino una volta conseguito deve essere aggiornato. Quello del patentino ADR è stato il primo documento di abilitazione dell'autotrasporto, poi successivamente anche per le CQC, di dove già nella fase iniziale è stato previsto il corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento che l'ADR stabilisce le modalità di effettuazione, perché la validità del certificato di 5 anni, allo scadere, prima dello scadere dei 5 anni, bisogna procedere al rinnovo. Il rinnovo deve essere fatto, dice l'ADR, in almeno due giorni di corso, deve avere almeno la durata pari alla metà del corso di formazione iniziale, o altrimenti uno può anche decidere che sia titolare già di un patentino, di non rinnovarlo, ma di farlo nuovo, diciamo, con corso di formazione iniziale. Proprio da questo punto di vista l'Italia ha recepito questa direttiva e con l'adeguamento della circolare del marzo 2013, che è andata a sostituire la circolare del marzo 2007, è stato dato il numero minimo di ore necessarie per la frequenza di un corso di rilascio, un corso di aggiornamento. Avete visto che, come vedete da questa tabella, l'Italia ha scelto che soltanto per il base almeno il 50%, diceva. Il base, noi abbiamo previsto nove ore minimo per il rinnovo, le 18 erano nella fase di rilascio, mentre per CISERN esplosive e radiattivi il numero è molto superiore al 50%. E questa situazione in Italia comporta, soprattutto, dobbiamo ammetterlo, la migrazione dei rinnovi verso altri stati dove invece i corsi hanno validità più ridotta, diciamo soltanto così. Però purtroppo la situazione al momento attuale è questa. In Italia l'idea era quella che dopo cinque anni uno doveva avere un minimo di formazione, perché nei cinque anni formalmente sono cambiate due ADR, due aggiornamenti. La proposta della Germania è che la durata del CFP sia biennale, come l'ADR, perché dice tutte le volte che cambia. L'Italia, all'interno del recepimento del decreto legislativo 35, ha stabilito invece che compito del consulente, cioè di quella persona che obbligatoriamente devono avere le aziende che trasportano merce pericolose, devono fare la formazione in occasione del rinnovo dell'ADR, mentre è rimasta limitata a cinque anni la validità del patentino. Vi dicevo che questa patentina validita a cinque anni si rinnova da dodici mesi prima della scadenza e bisogna fare il corso e il relativo esame entro la data di scadenza del patentino. Quindi anche se si è fatto il corso, ma non si è superato l'esame prima la data di scadenza, non si procede più a un rinnovo, ma si deve procedere a un rilascio. Questo comporta che il numero minimo di ore è superiore rispetto a quello che vi ho detto, il numero delle domande che devono rispondere i candidati è superiore e via discurendo. Quindi una penalizzazione. Anche su questo l'ADR 2013 e poi l'ADR 2017 ha previsto una variazione che al momento attuale non è ancora operativa, ma prevederà che io posso, come già adesso, frequentare un corso e fare il rilascio da dodici prima della scadenza. Se lo faccio dopo la scadenza sarà sempre rinnovo, anziché al momento attuale è considerato rilascio, però la durata non sarà più di cinque anni, ma sarà di cinque anni meno il periodo che io mi sono fatto scadere questo certificato. Praticamente quindi agli effetti pratici può succedere, fermo restando il fatto che dal periodo di scadenza al periodo dell'esame io non posso più utilizzarlo per effettuare il trasporto e quindi su questo vorrei ricordare una cosa, è stato chiaro anche al Ministero con una circolare, partecipare a un corso non significa avere l'abilitazione per continuare l'attività su strada se non si è superato l'esame. Se quindi anche agli effetti di un controllo ci fosse un conducente che esibisce l'attestato di frequenza al corso per quanto riguarda il CFP, ma non ha superato l'esame, questo non mi consente la circolazione se il CFP è scaduto. Anche per i corsi limitati che vi ho detto prima, ci saranno corsi limitati e esame limitato. Le modalità d'esame, come si svolgono queste modalità d'esame? Le modalità d'esame si svolgono al momento attuale con questionari ancora cartacei predisposti dal Dipartimento adeguati all'ADR. Al momento attuale gli esami vengono ancora svolti con l'ADR 2015, la prima sessione d'esame sarà relativa a per tutti quei corsi, relativa all'ADR 2017, per tutti quei corsi che partiranno dal 30 ottobre. Quindi tra qualche giorno tutti i corsi che partiranno dal 30 ottobre saranno conformi all'ADR 2017 e quindi i conducenti dovranno fare la formazione e il relativo esame su questi quiz. Sono divulgati sul portale dell'automobilista, sono stampati dal poligrafico dello Stato. Ma l'ADR 2017 dice che, al punto 8.2, che anche questi certificati devono essere fatti con esame informatizzati. Questa era stata già una prerogativa prevista dal nostro decreto ministeriale 10 novembre del 2009 che aveva modificato l'articolo 6 del vecchio decreto del 10 giugno del 2004 dove aveva introdotto la possibilità di poterli fare col sistema informatizzato. Voi sapete che ormai tutti i nostri esami, a parte questo, vengono svolti col sistema informatizzato dalle superiori alle CQC e via discorrendo, rimane questo che sarà adeguato al più presto e quindi tutti i conducenti affronteranno l'esame col sistema informatizzato. L'importante è che l'ADR raccomanda all'amministrazione che deve esistere un hardware e un software specifico, si deve garantire il corretto funzionamento, ma soprattutto si deve provvedere una procedura alternativa in caso di malfunzionamento perché non è possibile che questi patentini professionali non siano rilasciati nella giornata in cui è stato fissato l'esame. E alla fine tutti i dati devono essere registrati in una banca dati. Vi dicevo che, come prevede l'ADR, anche il nostro decreto 10 giugno 2004 prevede che alla fine dell'esame venga rilasciato il patentino. Quindi lo prevede espressamente il decreto. Quindi è impossibile che agli effetti pratici vi si possa trovare un conducente di strada che dice, ho fatto l'esame ma la motorizzazione a ritardo non mi ha rilasciato il patentino. Se ha fatto l'esame, prima di tutto lo trovate in memoria e quindi lo trovate espressamente nella nostra banca dati. Se non l'ha rilasciato o c'era un problema pratico o molto probabilmente se non lo trovate neanche inserito nel sistema questo non è vero. Perché? Perché vi dicevo che questo DM fatta all'epoca dalla loro sottosegretaria UG proprio per andare incontro alle esigenze dell'autotrasporto prevedeva proprio che al momento del conseguimento dell'esame l'ufficio doveva rilasciare immediatamente l'attestato. Questo spesso e volentieri non è accaduto e allora sono state fatte delle circolari per i vari uffici questa è la prima circolare che abbiamo fatto all'epoca come direzione generale nord-ovest raccomandando a tutti gli uffici di adempiere a quanto previsto dal DM ma anche successivamente l'architetto Vitelli direttore generale motorizzazione nel 2016 ha emanato una circolare dove dice se esiste una difficoltà di rilascio contestuale all'esame di rinnovo una difficoltà dovuta però a un'assenza di linea che in quel momento non a organizzazione interna dell'ufficio ma a assenza di linea allora dobbiamo fare in modo che il conducente a cui in quel momento dobbiamo ritirare il nostro patentino sia in grado di circolare come facciamo a farlo circolare? Dobbiamo emettere uno strato sostitutivo del documento ai sensi dell'articolo 92 come 1 del codice quindi dovrà essere rilasciato dall'ufficio provinciale che non è in grado di rilasciare immediatamente il patentino un documento dove viene riportato la data dell'esame la marca operativa relativa alla pratica che è stato fatto e la validità, la validità di 60 giorni è logico che questo è un documento che ha validità in ambito nazionale anche se agli effetti pratici questo è il documento che è stato inviato agli uffici per emettere è stato emesso in lingua italiana e in lingua francese in accordo alla DR perché l'Italia, vi ricordo, ha scelto di scrivere i documenti oltre nella lingua del paese perché i documenti previsti dalla DR devono essere rilasciati nella lingua del paese che le emette in più in una delle lingue ufficiali ovvero inglese, francese o tedesco l'Italia ha scelto di emettere tutti i suoi documenti in italiano perché è la lingua dell'emettitore e in più il francese, lingua ufficiale della DR quindi questo è stato un documento che è stato proprio inviato a tutti gli uffici e quindi in tutti i casi il conducente su strada se non ha quello definitivo deve avere questa dichiarazione se non c'è questa, non lo trovate in memoria probabilmente non ci sta raccontando la verità e andiamo a vedere la storia di tutti questi patentini vedete che nel corso degli anni hanno cambiato colore ci hanno ravvivato un po' le giornate siamo partiti nell'83 di colore grigio il primo patentino emesso secondo le direttive europee poi nel 94 siamo passati all'arancione nel 97 siamo passati all'azzurro nel 2006 e fino all'8 gennaio del 2014 siamo passati all'arancione quindi fino all'8 gennaio del 2014 significa che ancora in circolazione voi potete trovare dei patentini di questo colore, di questo formato arancione perché potevano essere rilasciati entro l'8 gennaio del 2014 validità 4 anni quindi ne perderemo le tracce solamente dall'8 gennaio del 2019 però contemporaneamente a questo patentino che possiamo trovare su strada e dove vedete che c'è una parte frontale una parte retro e dove nella parte retro lo trovate effettivamente scarabocchiato cancellato appena dall'esaminatore sulle modalità che il candidato non è riuscito a superare l'esame o che non ha richiesto l'esame accanto a questo patentino abbiamo il patentino nuovo quello previsto dall'ADR già con l'ADR 2011 è stata data attuazione a un nuovo tipo di patentino un patentino formato card l'avete già visto in circolazione perché ormai ce ne sono già di plastica deve essere in colore bianco con i caratteri neri deve riportare alcuni ologramma di sicurezza deve avere un motivo guilloché deve essere redatto nella lingua del paese che lo emette e poi in una lingua come vi dicevo prima tra inglese, francese o tedesco ed il modello previsto proprio dall'ADR è questo il fronte e il retro su cui per la prima volta viene apposta anche la foto mentre quelli precedenti che abbiamo visto non riportavano la foto del patentino allora le norme transitorie previste dall'ADR 2011 prevedevano proprio che e sono state confermate anche con l'ADR 2017 che le parti contraenti avrebbero potuto continuare a rilasciare i vecchi patentini quelli arancioni tanto per capirci che abbiamo visto fino al 31-12 del 2012 i certificati rilasciati successivamente al 31-12 dovevano essere già di questo modello in realtà avevo detto che in Italia siamo partiti a rilasciarli dal 9-1 del 2014 quindi ci sono questi due anni dove c'è la persistenza sia di un patentino che di un altro è logico che chi ha quel patentino ancora in corso di validità di formato arancione volendo può presentare un'istanza alla motorizzazione per trasformarlo nel nuovo patentino e a costo zero senza nessun versamento perché il periodo dei due anni dovuto a un problema tra poligrafico dello Stato e amministrazione della stampa proprio del documento ci ha consentito di rilasciare ancora i vecchi patentini però vengono sostituiti a costo zero questo è un patentino di quelli previsti che vengono rilasciati dove nella parte anteriore ci sono le caratteristiche quindi del conducente la validità nella parte posteriore invece abbiamo quello che vi dicevo prima la suddivisione in cisterno diverso dalle cisterne con tutte le classi vedete che in questo caso particolare questo signore avrà conseguito un patentino base specializzazione cisterni non troviamo nella classe 1 nella classe 7 quindi questo non potrà con un patentino di questo genere non potrà trasportare merci pericolosi esplosivi e radiattivi né in colli né in cisterne e vedete che sono già predisposti questi patentini perché in cima c'è scritto valida per la o le classi o i numeri 1 vi dicevo per quel discorso che sarà possibile rilasciare patentini limitati quindi io un domani potrei trovarmi un patentino di questo genere che ho scritto in cisterna numero 1 1202 vuol dire che quel signore può trasportare solo merce pericolosa in cisterna UN 1202 quindi gasolio o prodotti assimilati al gasolio le norme trasitorie previste al punto 16136 prevedono appunto che questi certificati di formazione rilasciati prima del primo gennaio del 2014 e che non sono conformi alle prescrizioni stabilite dalla DR possono ancora essere utilizzati e potranno essere utilizzati fino al termine del loro periodo di validità cosa sta succedendo sta succedendo che quindi ci sono in giro una serie a parte che noi in Italia ne possiamo avere due tipologie soltante al momento attuale quella arancione e quello nuovo modello ma analogamente anche in altri stati può succedere una cosa del genere allora il segretario dell'ONU ha detto tutti gli stati contraenti mi devono mandare il modulo del patentino che hanno rilasciato che stanno rilasciando in modo tale che sul sito generale dell'ONU vengono pubblicati tutti i moduli che vengono rilasciati dai singoli stati in modo tale che le forze di polizia possono accedere al sito e verificare il tipo di patentino rilasciato questa metodologia poi la vedremo anche per altri documenti che il segretario generale dell'ONU ha dato questo per quanto riguarda il patentino la DR prevede anche come abbiamo visto prima che ogni membro dell'equipaggio al punto 1 10 14 durante il trasporto deve avere con sé un documento di identificazione completo di fotografia che problema perché normalmente hanno anche la patente di guida quindi è vero non è un problema per noi è un problema per molti stati perché vi ricordo che la DR è un accordo internazionale dove in alcuni stati la patente è un'abilitazione e non è un documento di riconoscimento e quindi alcuni stati dove la patente è un'abilitazione e non è un documento di riconoscimento devono avere un documento di riconoscimento ma questo lo deve avere ogni membro dell'equipaggio e che cos'è il membro dell'equipaggio? Questa definizione di membro dell'equipaggio lo andiamo a trovare proprio al punto 8 3 1 e 1 2 1 nella parte 1 2 dell'ADR quando noi parliamo di ADR troviamo tutte le definizioni che si utilizzano dell'ADR e viene definito membro dell'equipaggio un conducente o qualsiasi altra persona che accompagna il conducente per ragioni di sicurezza formazione e gestione quindi fa parte e quindi in questo caso io devo chiedere i documenti richiedere i documenti anche per l'accompagnatore per il non conducente ma chi può essere questo conducente può essere soltanto una persona che accompagna il conducente per ragioni di sicurezza faccio l'esempio la guardia giurata che accompagna il trasporto di esplosivi o per formazione faccio l'esempio di il vecchio conducente che sta andando in pensione o andato in pensione addirittura c'è il patentino scaduto che accompagna per formazione il nuovo conducente che gli fa lo inizia l'attività ma tutte queste persone che prendono parte a bordo del veicolo devono se non sono conducenti se non sono conducenti perché se sono conducenti devono essere titolari del patentino ADR se non sono conducenti devono aver fatto la formazione generica prevista dall'ADR e deve essere attestata dall'azienda in modo tale che l'organo di controllo su strada trova un'altra persona e verifica che questa persona è stata incaricata per accompagnare quella persona per attività di formazione attività di formazione poi eventualmente l'organo di polizia potrà fare accertamenti se sul registro della formazione quella ha fatto la formazione opportuna è logico che non c'è un patentino lui ma comunque questo è una particolarità e una criticità di cui vi parlerà poi il dottor Protospataro perché spesso e volentieri a bordo dei veicoli a qualsiasi titolo in modo particolare di merce pericolosa troviamo delle persone che non hanno queste caratteristiche e passiamo ai documenti che riguardano la merce i documenti che riguardano la merce iniziamo con le istruzioni scritte le istruzioni scritte noi sappiamo che sono quei documenti che danno un supporto nei casi di emergenza una volta i documenti questi documenti e le istruzioni scritte venivano consegnate tutte le volte dal mittente del trasporto in funzione della merce pericolosa che veniva caricata e quindi il mittente assieme a tutti gli altri documenti doveva consegnare anche la scheda di sicurezza questo spesso e volentieri non avveniva venivano consegnate vecchie schede e via discorrendo allora con l'ADR da un po' di anni ha previsto che le istruzioni scritte sia un'istruzione scritta generica non più specifica per la materia non più specifica per le classi ma contenga l'elenco di tutte le classi e contenga le prescrizioni da adottare durante il trasporto per tutte le classi queste schede di sicurezza devono trovarsi lo dice espressamente il punto 5.4 dell'ADR all'interno della gabina di guida e a portata di mano dell'equipaggio del veicolo non del conducente dell'equipaggio anzi andremo a vedere come l'ADR 2017 dice che nel caso di equipaggio l'obbligo del datore di lavoro è di consegnare se ci sono due persone due schede di sicurezza a entrambi e nella lingua conosciuta da quell'autista o da quell'equipaggio tra le responsabilità del datore di lavoro è anche quella di consegnare la scheda di sicurezza di accertarsi che lui è in grado di leggerla è in grado di comprendere i provvedimenti che deve adottare e poi anche di verificare che a bordo ci siano tutte le disposizioni previste dell'ADR questo ha semplificato tantissimo ha semplificato tantissimo anche dal punto di vista del controllo della polizia perché perché la scheda di sicurezza a questo punto è uguale per tutte le merci pericolose l'organo di polizia ce l'ha è uguale a quelle che consegna dovrebbe essere uguale a quella che consegna l'autotrasportatore e a pagina 4 della scheda di sicurezza andiamo a vedere cosa dobbiamo trovare a bordo di quel veicolo in funzione delle merci che vengono caricate quindi non ci dobbiamo più andare a inventare nulla sulla borsa ADR ma andiamo soltanto a leggere a pagina 4 quali sono i dispositivi necessari per il trasporto di quella tipologia di merce quindi prima della partenza vi dicevo i membri dell'equipaggio devono informarsi circa le merci pericolose che gli sono state caricato verificare a pagina 4 di avere le dotazioni che con la scheda previste in modo tale da adottare tutte le precauzioni necessarie in caso di incidente questa scheda di sicurezza è formata in 4 pagine l'avete vista attenzione spesso arrivano quesite la scheda di sicurezza era fotocopiata la scheda di sicurezza non era plastificata l'ADR su questo punto non dice assolutamente nulla dice soltanto che la scheda di sicurezza deve essere conforme al modello che prevede dell'ADR se contiene tutti quei requisiti se è fotocopiata se non è plastificata non possiamo entrare nel merito questo è un esempio della scheda di sicurezza le due pagine centrali poi c'è la pagina anteriore sulle modalità generali e la pagina posteriore dove vi dicevo sono elencati tutti i dispositivi che devono trovarsi a bordo del veicolo con l'ADR 2017 tra gli obblighi del trasportatore quindi dell'azienda quindi del datore di lavoro del conducente mentre fino all'ADR 2015 diceva che deve assicurarsi che gli equipaggiamenti previsti nelle conseglie scritte siano a bordo del veicolo adesso genericamente con l'ADR 2017 dice assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti dall'ADR si trovano a bordo del veicolo è fondamentale questo perché prima il trasportatore doveva assicurarsi soltanto che ci fossero nei casi specifici copritombino maschera antigas iconi e via discorrendo in questo caso deve anche accertarsi la responsabilità del trasportatore anche delle altre dotazioni ma quali sono? ad esempio gli estintori ad esempio il funzionamento dello stacca batteria quando è previsto e via discorrendo il trasportatore quindi ha l'obbligo di mettere a disposizione proprio secondo l'ADR 2017 a disposizione di tutto l'equipaggio del veicolo la scheda di sicurezza e non soltanto del conducente e quindi l'ADR 2017 ha modificato questa scheda di sicurezza rispetto alla 2015 perché poi lo vedrete dopo con l'ingegnere Danieli è stata inserita una nuova etichetta l'etichetta 9A che è relativa al trasporto di merci pericolose della classe 9 pile al litio ovvero e viene sostituita la parola di veicolo con unità di trasporto perché la scheda di sicurezza prima parlava di veicolo ma il concetto dell'ADR a cui dobbiamo fare riferimento è unità di trasporto non è veicolo questo non è argomento di oggi ma vi consiglio di affrontare questo discorso di questa definizione di unità di trasporto perché tutte le volte che c'è una disposizione dell'ADR su una determinata situazione l'ADR parla non di veicolo ma di unità di trasporto ogni unità di trasporto deve essere dotata di almeno due stintori cosa significa? significa che l'unità di trasporto può essere il veicolo isolato idoneo al carico ma se è un trattore con semirimorchio è sempre un'unità di trasporto se è motrice con rimorchio è sempre un'unità di trasporto se è trattore isolato semirimorchio isolato non è nulla quindi se il trattore è isolato o il semirimorchio isolato non gli posso richiedere ad esempio gli estintori quando sono agganciati posso richiedergli gli estintori ma li devo richiedere come un'unità di trasporto non come due motrice e rimorchio la motrice quando è attaccata quando è staccata scusate è un'unità di trasporto quando è attaccata col suo rimorchio è sempre un'unità di trasporto quindi non devo raddoppiare nel caso gli estintori o i pannelli identificativi arancioni questo ve l'ho detto andatevelo a vedere perché è estremamente importante andiamo adesso velocemente ai documenti di trasporto documenti di trasporto allora per quanto riguarda i documenti di trasporto il documento base per l'ADR è il documento di trasporto l'ADR non dice il tipo di documento di trasporto ma dice i contenuti che devo essere all'interno del documento di trasporto quindi dice tu stato che utilizzi un determinato documento di trasporto che può essere il DTT che può essere l'XAB che può essere tutto quello che volete su quel documento che può essere il CMR e su quel documento in funzione di quello che stai utilizzando e che la tua norma nazionale ti impone di utilizzare devi inserire determinati informazioni per quando fai un trasporto all'ADR e quali sono queste informazioni il numero ONU preceduto dalle lettere UN quindi sto trasportando gasolio UN 1202 la designazione ufficiale di trasporto della materia la designazione ufficiale te la vai a trovare nella tabella B dell'ADR e quindi devi indicare la designazione ufficiale col nome tecnico non col nome commerciale se tu vuoi indicare anche il nome commerciale lo metti tra parentesi ma devi indicare il nome tecnico abbiamo questo però vi prego da domani non andate a sanzionare tutti perché ormai è generalizzato abbiamo tantissimi documenti con scritto gasolio UN 1202 gasolio perché ormai è una tradizione non esiste sulla DR il gasolio sulla DR dice UN 1202 carburante diesel dovrai mettere UN 1202 carburante di diesel tra parentesi gasolio se voglio mettere gasolio per farvi capire perché gasolio noi conosciamo cos'è il gasolio ma se non conoscessimo e mettiamo che troviamo gallio cos'è il gallio se è una denominazione tecnica vado sulla DR sull'elenco alfabetico trovo il gallio e mi dice a quale numero associato se ci metto il nome commerciale non lo trovo e quindi agli effetti del controllo non riesco a fare questo tipo di controllo poi dopo queste prime informazioni bisogna mettere alcune indicazioni genericamente andiamo all'ultimo punto l'ultimo punto dice i numeri e i modelli di etichetta che figurano nella conola 5 della tabella abbiamo fatto l'esempio del gasolio UN 1202 etichetta 3 3 scriverò poi ci sono alcuni casi particolari vi premetto che sto facendo un documento di trasporto abbastanza semplice poi vi farò vedere alcuni molto più complicati ma ci sono una varietà infinita perché ad esempio alcuni casi per la classe 1 devo mettere il codice di classificazione degli esplosivi quindi non soltanto metterò l'etichetta 1 degli esplosivi ma dovrò andare a mettere anche il codice di classificazione 1A 1B 1C se sono materie della classe 7 dovrò indicare che sono materie della classe 7 se sono materie della classe 9 dovrò indicare che sono materie della classe 9 quindi ci sono una serie ma nel caso più generico è l'ultimo punto quello che a cui noi dobbiamo fare riferimento poi dopo questa addizione dobbiamo mettere il gruppo d'imballaggio che può essere scritto in italiano GI è il gruppo d'imballaggio che troviamo sempre dalla tabella numerica della DR oppure alcune volte lo troviamo in inglese PG è la stessa cosa che mi indica la classificazione della gravità della pericolosità del prodotto all'interno di quella classe perché se è gruppo d'imballaggio primo vuol dire che all'interno della classe è considerato molto pericoloso secondo media pericolosità terzo scarsamente pericoloso quindi anche agli effetti vostri nel caso di intervento su un incidente e che quindi non sono a conoscenza del prodotto già dall'identificazione di questo gruppo d'imballaggio so all'interno di quella classe se è molto media o bassa pericolosità poi la quantità totale la lettera dice nel caso che faccia un trasporto in colli devo indicare anche il tipo di collo ed eventualmente indicare anche il codice di classificazione cioè nel senso se sono casse se sono fusti cosa sono poi la quantità di merce pericolosa e nel caso che questa quantità di merce pericolosa fosse contenuta all'interno di motori poi lo vedete dopo con l'ingegnere Danieli va indicato la massa netta vi ho accennato brevemente che e ve l'ho detto nella fase iniziale che non è detto che tutte le merci pericolose debbano rispettare durante il trasporto tutte le prescrizioni adr se il quantitativo al di sotto dei limiti di esenzione previsti dalla tabella 1.1.3.6 allora non è necessario rispettare tutte le prescrizioni dell'adr ma soltanto due condizioni questa opportunità però deve essere trascritta sul documento sul documento ci deve essere conforme al punto 1.1.3.6 dell'adr vuol dire che il quantitativo è al di sotto del limite previsto dall'adr vuol dire che io organo di polizia su strada quando vado a controllare vedo documento di questo genere dico bene non devi avere tutta l'attrezzatura a te conducente non ti posso chiedere il patentino perché sei in esenzione non ti posso chiedere tutti gli estintori tutte le maschere gli equipaggiamenti individuali perché è necessario avere esclusivamente il documento in questa specie e solo un estintore da 2 kg quindi capite che analizzando bene il documento di trasporto poi sono in grado di chiedere anche le eventuali altre disposizioni sempre sul documento di trasporto il nome e l'indirizzo dello speditore o degli speditori il nome e l'indirizzo dei diritti natari l'adr prevede anche il caso della tentata vendita cioè di quelli merci pericolose che partono e non si sa che è il destinatario allora soprattutto quando la classica cisterna che va a fare la distribuzione che non sa quale sia il destinatario finale allora sul documento di trasporto dovrà comparire la scritta consegna vendita e poi se c'è necessità anche la dichiarazione di aver rispettato conformemente le disposizioni particolari ecco un esempio ultima cosa è il K è il codice di restrizione in galleria al momento attuale questo in Italia è ancora operativo solo su determinate gallerie perché perché l'ADI era prevista la classificazione delle gallerie in cinque gruppi A, B, C, D E tutti gli enti proprietari delle strade dovranno classificare in funzione del rischio di quella galleria dovranno classificarla con queste lettere queste lettere devono essere riportate sul documento di trasporto perché il conducente ricevendo questo documento deve capire se in quella galleria potrà transitare o meno e vengono messe tra parentesi dopo tutta la cosa vedete CD è una classificazione di una galleria quindi praticamente dice attento che in quella galleria che è stata classificata così non puoi passare questo al momento attuale può essere omesso l'indicazione del transito in galleria solo ed esclusivamente se il mittente all'atto della consegna del carico dà già per scontato che durante il tragitto non incontrerà gallerie però se non sa che tragitto effettuerà e se ci sono delle gallerie anche se molte gallerie quasi tutte non sono state ancora classificate dagli enti proprietari della strada però deve essere già indicato e se fate caso io viaggio molto e quindi sono anch'io mezzo autotrasportatore quindi vedo parecchi lavori su strada nelle gallerie e soprattutto vedete che alla fine queste gallerie sono notevolmente diverse rispetto a prima non è un abbellimento della galleria ma sono delle prescrizioni che vengono date dall'ADR in funzione di quei codici perché l'ADR dice se tu le adegui e mi garantisci determinate sicurezza io ti do un codice più alto se tu non me le adegui ti do un codice più basso e poi è un problema tuo lì quel contrasporto non ci potrà più passare quando arriveremo a regime quando l'ADR prevedeva già che a regime ci dovessimo arrivare il 31 dicembre del 2010 poi non ci siamo arrivati e adesso dice fino a quando non ci sarà la classificazione però già tante sono state classificate perché non è detto che l'ADR continui a dare queste progetti se su un documento di trasporto vi trovate questa frase trasporto secondo 1 1 4 2 l'ADR attenzione trattasi di trasporto multimodale e un termodale ovvero di un trasporto che ha interessato più sistemi di trasporto ad esempio mare gomma ferrovia gomma e via discorrendo perché è importante perché l'ADR a questo punto dice che se è un trasporto che segue una modalità già effettuata e quel trasporto non è conforme all'ADR se il conducente il mettente mette questa dicitura noi dobbiamo autorizzarlo a circolare su strada anche in deroga a determinate norme vi faccio un esempio pratico carico un container che è arrivato via mare via mare ha perso tutte le etichette di pericolo la soluzione è o rimetto tutte le etichette di pericolo prima di partire o altrimenti parto sperando che non mi controlli nessuno o altrimenti faccio questa notazione se faccio questa notazione vengo fermata dalla pattuglia lungo la strada vedo questa notazione ma stai trasportando merci pericolose sì ma è un intermodale ho fatto la dicitura posso raggiungere la località di destinazione per il percorso più breve in deroga alle prescrizioni dell'ADR ma sono prescrizioni solo relative a determinate situazioni non è che posso essere esentato da tutti vi ho fatto l'esempio delle etichette che è un esempio che calza bene perché spesso succede allora salto questo documento sulle pile al litio che intanto lo farà l'ingegnere Danieli vi volevo dire che con l'ADR 2017 era già da primo obbligatorio il documento di trasporto relativo agli imballaggi vuoti non ripuliti è cambiata la dicitura mentre prima mettevamo imballaggi vuoti questo è un esempio 6.1 vuol dire che ha contenuto materie 6.1 tossiche con pericolo secondario di infiamabili adesso bisogna mettere invece la nuova frase imballaggio vuoto con residui di 6.1 cioè è stato aumentato questo è stato portato anche sulle cisterne cisterna vuota non ripulita contenente ecco vi ricordo che secondo l'ADR la cisterna vuota non ripulita così come gli imballaggi vuoti non ripuliti devono viaggiare nelle stesse condizioni come se fosse carica quindi rispettando tutte le prescrizioni dell'ADR andiamo al documento certificato di carico il certificato di carico è necessario soltanto nel trasporto intermodale cioè se io effetto un trasporto intermodale oltre al documento di trasporto devo allegare anche un certificato di carico che deve essere conforme al punto 542 del codice IMDG il codice IMDG non è altro che l'ADR per il sistema mare questo certificato di carico può essere separato rispetto al documento di trasporto oppure può essere un documento unico se è un documento unico deve contenere entrambi i documenti è quello che molti di voi chiamano IMO che ce l'hai l'IMO è quel documento che serve per poi imbarcare diciamo la nostra merce documenti che riguardano i veicoli per quanto riguarda i documenti che riguardano i veicoli il documento principale è la carta di circolazione vi ricordo che per quanto riguarda il trasporto in colli e alla rinfusa della classe 1 e la classe 7 in colli non è necessario sulla carta di circolazione nessuna notazione quindi per chi effettua trasporto in colli alla rinfusa di merci pericolosi che può essere attraverso anche un container un semirimorchio con un container che trasporta merci pericolosi in colli la carta di circolazione può essere una carta di circolazione normalissima quindi il veicolo può essere un veicolo normalissimo non collaudato tra virgolette perché l'ADR e la circolare del 18 giugno del 99 prevedeva appunto che non ci fosse la notazione sulla carta di circolazione ma l'organo di polizia durante il trasporto controllasse che il conducente avesse tutti quei dispositivi che doveva presentare alla motorizzazione quando faceva il collaudo quindi io verifico dal documento di trasporto che stai facendo un trasporto in container colli di merce pericolosa bene allora in funzione della scheda di sicurezza adesso mi fai vedere tutto mi fai vedere quello che prevede la scheda di sicurezza per quella tipologia più ti va da vedere gli estintori i pannelli e via discorrendo ma non trovate più scritto la notazione questo però ribadisco colli e rinfusa ad eccezione 1,7 sia che si tratti del trasporto in ambito nazionale che in ambito internazionale se invece è un veicolo che è stato sottoposto a collaudo diciamo sulla carta di circolazione trovate quelle scritte EX2 EX3 ATFL EX2 EX3 ATFL ecco cosa sono quelle sono delle dei codici che vengono messi per dichiarare l'idoneità di quel veicolo a effettuare una determinata tipologia di trasporto questi codici ne manca uno non è che me lo sono dimenticato l'OX perché l'OX ne avrei parlato dopo è un veicolo particolare idoneo a trasportare merci pericolose comburenti appartenenti alla classe 5.1 che con l'ADR 2017 è stato abrogato però è possibile ancora continuare a utilizzarlo e vi dicevo allora qual è il quadro normativo di riferimento che dobbiamo fare riferimento per i veicoli che trasportano merci pericolose quindi sull'annotazione sulle carte di circolazione è il decreto legislativo 35 del 2010 questo decreto legislativo dice anche in ambito nazionale tu devi rispettare tutte le norme ADR se tu stato membro vuoi e questo è stato ricepito questa direttiva è stata ricepita con questo decreto legislativo vuoi dare delle deroghe all'interno del tuo stato per veicoli che non sono conforme all'ADR puoi farlo ma puoi farlo a condizione che te le tieni nel tuo stato praticamente le fai circolare solo all'interno del tuo stato ne fissi le modalità di utilizzo e ne fissi il periodo massimo di utilizzo oltre il quale devi per forza metterli fuori uso questa deroga in Italia è stata recepita con DM ministeriale 18 febbraio del 2010 e quindi ha stabilito che tutti i veicoli non conformi all'ADR possono ancora circolare in Italia se rispettano determinate condizioni e per un periodo limitato di tempo e allora cosa succederà succederà che sulle carte di circolazione voi per questi ammessi in deroga dovete trovare questa annotazione veicola messa al trasporto nazionale di merci pericolose su strada sino al ai sensi del coma 1 articolo 1 o articolo 2 qui c'è coma 1 coma 2 articolo 1 a seconda del tipo di veicolo quindi il controllo su strada è semplice perché è semplice è complicato ma è semplice da questo punto di vista perché dico allora c'è il baratto rosa che è quello che vedremo dopo vuol dire con quelle scritte che abbiamo visto prima FTA X X2 X3 bene è rispetto alle norme internazionali quindi puoi circolare non c'è il baratto rosa mi devi far vedere sulla carta di circolazione se non c'è questo non c'è uno non c'è l'altro non va bene e quali sono questi veicoli ammessi alla circolazione in deroga secondo l'articolo 1 e l'articolo 2 sono i veicoli cisterna che trasportano solo esclusivamente UN 1202 1965 quindi solo quelli che praticamente in poche parole solo le cisternette le motrici che trasportano o gasolio o GPL mentre i rimorchi in deroga e i semirimorchi in deroga soltanto 1965 1.136 1.267 1.999 3.256 che a parte 1.965 che è il GPL gli altri sono prodotti petroliferi tipo il 3.256 che è l'olio denso ecco questi sono gli unici che sono a messi in deroga quindi se io trovo a circolare una cisterna su strada che non ha il baratto rosa che lo vedremo dopo e che non ha questa notazione non può circolare su strada non è ammessa quel trasporto di merci pericolose e l'esempio pratico l'esempio pratico perché ad esempio questi sono le deroghe poi dice tutti i veicoli che non appartengono a queste deroghe e non hanno questi numeri potevano circolare ancora per 24 mesi ma il termine è scaduto ampiamente il 12 marzo del 2012 però su strada stanno ancora circolando tanti trattori stradali che è l'esempio più pratico come tanti semirimorchi che non hanno chiesto la deroga non possono ottenere il baratto rosa ma la stanno trasportando merce pericolosa quello che vi riassumevo prima dicevo quindi o c'hai la notazione o c'hai il baratto rosa o uno o l'altro deve avere a bordo dei veicoli salvo stiamo parlando di cisterne contane cisterna salvo che non sia un trasporto in colli che allora non era necessario questo tipo il certificato di approvazione dei veicoli è il baratto rosa quello che è un modello che è obbligatorio avere per tutti i trattori per semirimorchio per semirimorchio che trasportano cisterna per i cisterni autoportanti per gli autoveicoli per trasporto specifici contane per il trasporto specifico contane e per il rimorchio per trasporto specifico contane tutto questo elenco è proprio scritto anche nella nostra circolare ministeriale del 2002 questo baratto rosa non è altro che un'attestazione che una volta era valida era necessaria solo per andare in ambito internazionale adesso è obbligatorio anche per la circolazione nazionale e quindi anche per effettuare un trasporto di merci pericolose in Italia è obbligatorio averlo come è fatto questo baratto rosa questo baratto rosa è un certificato che quello che prevede l'ADR è di questo formato le modalità di compilazione sono anche queste indicate sul sul sito ufficiale dell'ONU e è stato messo espressamente con l'ADR 2017 per evitare che ogni stato membro lo compilasse in modo difforme e anche questo gli stati membri devono depositarlo presso il segretariato in modo tale che verranno pubblicati le copie questo certificato vi ho detto in Italia viene rilasciato dalla motorizzazione una volta era questo il modello arancione poi è stato sostituito con un modello leggermente un po' più rosa adesso è stato sostituito con un modello informatizzato che viene informatizzato nel nostro sistema che quindi anche questo potete ricavare dal nostro sistema se effettivamente è stato rilasciato perché è stato costituito una banca dati dei DDT 306 per evitare problemi di falsificazione e dato che questo documento attesta la bontà di un veicolo perché altrimenti non può più circolare da quando obbligatorio anche in Italia ci si è accorti che tanti di quelli che sono in circolazione sono falsi tant'è vero che noi li sostituiamo tutti gli anni quindi il falsario tutti gli anni deve procedere perché altrimenti prima con le proroghe dietro da novembre 2017 quindi tra pochi giorni verrà sostituito ulteriormente con la nuova ADR 2017 e quindi verrà dato questa certificazione cosa dice questo certificato questo certificato contiene praticamente un numero di telaio e una targa di un veicolo o il proprietario del veicolo e mi attesta che questo veicolo è idoneo al trasporto sia in ambito internazionale che in ambito nazionale delle merci pericolose secondo quelle caratteristiche che vi ho detto prima quindi ci sarà scritto X2 X3 FL AT OX in funzione di quelle caratteristiche il veicolo sarà idoneo o meno a effettuare il trasporto questo ha una validità di un anno e può essere rinnovato nel mese che precede e nel mese che segue e viene confermata sempre la validità teorica quindi se la revisione viene fatta nel mese che precede o nel mese che segue la scadenza viene sempre data un anno dall'anno teorico attenzione che anche per questo è stata effettuata una circolare dove dice che se viene prenotata così come la revisione se viene prenotata in tempo utile anche per il rinnovo di questo certificato se viene presentato in tempo utile la prenotazione vale per la circolazione ma vale per la circolazione solo ed esclusivamente in ambito nazionale fascicolo della cisterna qualora noi dovessimo controllare una cisterna la cisterna è dotata di alcuni documenti ve lo faccio velocemente questo che contengono il fascicolo cisterna una volta voi ricordate tutti che avevamo solo ed esclusivamente quel libretto su in alto il classico MC813 per i liquidi e l'MC452 per i gas adesso ma era un libretto che narrava tutta la storia della cisterna e vi comprese tutte le prove periodiche ma era solo ed esclusivamente un libretto dato dalla norma italiana 8880 la DRS è adeguata la DRS è adeguata alla norma nazionale italiana e dice non lo chiamiamo più così perché non ci voleva ma lo chiamiamo certificato di ispezione della cisterna quindi io quando dovessi controllare una cisterna oltre la carta di circolazione oltre il DDT306 se presente oppure l'annotazione sulla carta di circolazione devo richiedere il certificato di ispezione che è quello in basso quegli altri servono soltanto all'interno dell'azienda per la circolazione serve soltanto il certificato di ispezione è importante perché sul certificato di ispezione oltre a esserci la scadenza di validità delle prove periodiche trienali e sestenali ci sono anche le tipologie di merce che quella cisterna è idonea a trasportare a trasportare a trasportare a trasportare a trasportare